Noi siamo un'azienda che coltiva, produce e commercializza tutti i prodotti a base di aloe vera, soprattutto la più pregiata che è l'aloe barbadensis miller. Noi ci occupiamo di far sì che tutte le persone che vogliono avvicinarsi alla nostra realtà possono ottenere una possibilità di un lavoro serio, sicuro e garantito con un reddito certo. I prodotti a base di aloe sono prodotti salute e benessere che vanno a mirare tutti i tagli di tutte le persone, sia dal bambino fino all'anziano. Io ho conosciuto l'azienda proprio attraverso questo prodotto, l'aloe, che lo uso come prodotto alimentare. L'obiettivo nostro è quello di portare l'aloe in tutte le famiglie, in tutti i frigoriferi. Parliamo proprio di alimento per la vita quotidiana di tutti i giorni. Diciamo che è una delle regole dell'azienda. Prima bisogna utilizzare il prodotto e quindi capire su di noi qual è la realtà del prodotto. Con la nostra testimonianza poi possiamo parlarne ad altri. E tutti i corsi che noi facciamo sono completamente gratuiti, quindi a carico dell'azienda. Questa parte qua noi facciamo provare i nostri trattamenti gratuiti, quindi le persone vengono proprio a provare, quindi noi li vestiamo perché giustamente i clienti devono provarli. Abbiamo anche la parte capelli dove facciamo, io sono una parrucchiera e mi occupo anche della parte capelli dove faccio provare tutta la parte comunque ricostruttiva. Questo che voi vedete è lo showroom del centro di formazione di Treviso dove i nostri clienti finali, quindi gli utilizzatori, possono venire qui ed acquistare il prodotto direttamente e partecipare anche ai corsi di formazione totalmente gratuiti. È un investimento che noi facciamo come azienda proprio a vantaggio nel nostro incaricato di vendita. Abbiamo da un lato la medicina ufficiale che serve, serve sempre, però dall'altro abbiamo la possibilità di affiancarci con prodotti proprio naturali. In principal modo sicuramente l'aloe perché aiuta moltissimo tutto l'organismo, dà anche più vitalità. Tutto l'aloe forever è stato validato dal Ministero della Salute italiano, oltre che da altri 150, altri ministeri nel mondo e le indicazioni che io ho trovato di terapia sono state molto interessanti. Nel bambino l'integrazione con l'aloe pura è la migliore perché senza complicare molto le cose è sempre bene andare su prodotti molto semplici. Sicuramente il gel di aloe come cuore della pianta è molto utile per la pelle, quindi tutto l'aspetto dermatologico, con grandi sorprese anche nelle dermatiti, nelle patologie come la dermatite atopica, unitamente sempre a quello che il medico consiglia, quindi come terapia.